Ravenna 2016, fare conti con l'ambiente. Siamo con Stefano Cicerani di Ampar che ci parla del loro contributo. Buongiorno, quest'anno ritorniamo qui a Ravenna, a questa splendida manifestazione, a parlare nuovamente di aggregati riciclati e di riciclaggio di rifiuti da costruzione e demolizione. E' un tema importante anche alla luce del recente decreto sugli appalti verdi nell'edilizia dei cosiddetti criteri ambientali minimi che finalmente ha reso obbligatoria per la pubblica amministrazione l'utilizzo di aggregati riciclati nelle opere edili. Siamo in una nuova era dal punto di vista dell'utilizzo dei materiali riciclati perché l'utilizzo dei materiali riciclati diviene finalmente un obbligo di legge per la pubblica amministrazione. A questo punto la scommessa della nostra associazione è sulla qualità di questi prodotti. I prodotti riciclati che vengono fuori dal recupero di questi rifiuti dall'edilizia, quindi dalle macerie, noi abbiamo sempre voluto che fossero aggregati riciclati di alta qualità proprio per garantire la stazione appaltante e tutti coloro che utilizzano questi materiali sulla resa dei materiali e sulle buone opere, le buone pratiche edili in cantiere. Per cui Ampar si è fatta portavoce degli impianti di riciclaggio a livello nazionale per essere interlocutore di tutti coloro che utilizzano il materiale sia soggetti pubblici che privati al fine anche di garantire la qualità di questi prodotti attraverso la sottoscrizione, la redazione insieme a questi soggetti utilizzatori dei materiali di standard di qualità e procedure di qualità che garantiscano coloro che vogliono utilizzare i materiali riciclati senza avere da temere eventuali sanzioni di legge da utilizzo di materiali non conformi alle norme di settore. Per cui la scommessa di Ampar è creare una vera e propria classe di imprenditori che investono su questo settore e si aggiornano nell'investimento, che controllano a livello industriale la loro produzione al fine di rendere questi materiali completamente sicuri nell'utilizzo e molto elevati dal punto di vista prestazionale per le opere nelle quali si va a utilizzare.